Torna dal 6 al 12 novembre l'appuntamento con la settimana del benessere psicologico promossa dall'Ordine degli Psicologi della Campania. La novità principale di questa ottava edizione è nel coinvolgimento delle scuole della regione che servirà ad accendere i riflettori su un fenomeno dilagante come quello del bullismo e del cyberbullismo. La settimana del benessere si aprirà il 6 novembre alle 20.30 presso il Teatro Trianon di Napoli con note di benessere, il concerto di Sanitansamble, l'orchestra giovanile del quartiere popolare Sanità. ed entrerà poi nel vivo dell'iniziativa con circa 400 appuntamenti tra dibattiti, conferenze e seminari organizzati dagli psicologi su tutto il territorio campano. La regione Campania per le scuole sta facendo tanto, è a 360 gradi, se si pensa al trasporto scolastico gratuito, trasporto scolastico e assistenza specialistica, il programma Scuola Viva che ha aperto 450 scuole al pomeriggio per tre anni. Noi già abbiamo pronto il finanziamento per allungarlo di un altro anno, quindi il quarto anno. Anche per il bullismo ci stiamo impegnando molto, devo dire che io lo sento anche come madre di una ragazza di 13 anni, quasi 14, perché i ragazzi di oggi sono davvero molto più fragili, sanno affrontare meno quelle che sono le difficoltà della vita. E noi dobbiamo sopportarli e dobbiamo sopportare gli insegnanti che spesso si sentono sotto accusa quando ci sono degli episodi di bullismo, di violenza nelle loro classi. Ecco, io credo che il segnale che si debba dare è di unità e di supporto, unicamente di supporto rispetto alle famiglie, rispetto agli insegnanti, i dirigenti, gli studenti. Le iniziative sono tantissime, soprattutto quest'anno si concentrano nelle scuole, perché l'iniziativa è scuole amiche del benessere psicologico, accanto a città amiche del benessere psicologico. Lavoreremo per tutta la settimana, a partire da lunedì mattina, per discutere e riflettere intorno al benessere psicologico qui in Campania. Che cosa deve essere il benessere psicologico nelle scuole per i bambini e le bambine, i giovani e le giovani della nostra regione. Gli scopi della settimana del benessere sono quelli di promuovere il benessere, ma soprattutto di riflettere intorno a cos'è il benessere in un contesto che andiamo ad istituire.